Una vasta operazione antidroga in corso in provincia di Caltanissetta. I carabinieri, insieme al personale del comando provinciale della compagnia di Canicattì e unità antidroga del nucleo cinofili di Palermo, stanno eseguendo su disposizione dell'autorità giudiziaria nissena un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché arresti domiciliari e obbligo di dimora presso il comune di residenza, nei confronti di 11 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e concorso in associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. L'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP Nisseno è frutto di un'indagine condotta dai carabinieri su una banda di pusher a San Cataldo. A capo dell'associazione ci sarebbe stato Michele Cordaro che ha collegamenti con la mafia. Le indagini iniziate nel 2016 e durate circa un anno sono state sviluppate attraverso una serie di attività tecniche che hanno permesso di monitorare, anche attraverso l'uso di microcamere posizionate ad hoc dagli investigatori, numerosi episodi di spaccio. Nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza sono stati sequestrati 260 grammi di hashish.